Musica Progressivo indebolimento dell'alta pressione per l'avvicinarsi di un fronte freddo da nord, associato ad aria artica marittima. Martedì 16 aprile, in mattinata, cielo nuvoloso con possibili locali piogge, in particolare sui rilievi, tendenza a locale aumento della nuvolosità dal tardo pomeriggio, con possibilità di precipitazioni sparse sulle zone interne centro-settentrionali. I venti saranno deboli, moderati di libeccio, con rinforzi su costa e arcipelago, i mari molto mossi fino a localmente agitati a nord dell'Elba. Temperature massime in diminuzione, con punte di 20-22 gradi. Sulla provincia di Lucca, nuvolosità irregolare, con addensamenti a tratti consistenti e possibilità di rovesci sparsi, soprattutto nelle zone settentrionale e sui rilievi. A Lucca le temperature uscilleranno tra gli 11 e 20 gradi, a Castelnuovo di Garfagnana minima 11, massima 20 gradi, a Viareggio minima 11, massima 20 gradi. Grazie a tutti!